Ancora in fuga la coppia evasa dal carcere di Villa Fastigi, caccia anche a un pesarese condannato per violenze sessuali evaso dai domiciliari, dai trasporti alla scuola anche a Pesaro sarà un venerdì di sciopero generale, ad Urbino quattro frammenti danteschi i manoscritti ritrovati nell'archivio di Stato, la nazionale di basket torna a Pesaro a febbraio, Italia-Turchia. Benvenuti al nostro telegiornale Oggi è giovedì 16 novembre e apriamo questa edizione occupandoci del caso della coppia albanese di detenuti che da martedì pomeriggio è evasa dal carcere pesarese di Villa Fastigi. Marito e moglie sono accusati di tentato omicidio e sono tuttora in fuga. Le ricerche si sono estese nell'intero territorio nazionale. Sono in fuga da 48 ore, Emilian Bici, 43 anni, Ermelinda Spacchio, 38 anni, coppia albanese di detenuti evasa da martedì pomeriggio dal carcere di Villa Fastigi dove erano reclusi in seguito ad una condanna per tentato omicidio avvenuto nel 2018 a Ravenna al termine di un'aggressione a coltellate in un contesto di criminalità organizzata albanese. I due, marito e moglie, furono arrestati a Fano un paio di giorni dopo il fatto avvenuto in terra romagnola. Da lì una detenzione di relativa buona condutta per una coppia che ogni mattina partiva in pullman dalla casa circondariale di Pesaro per recarsi a lavorare in un'azienda agricola sul San Bartolo assieme ad altri tre detenuti. Martedì pomeriggio però non si sono presentati al consueto ritrovo al pullman per rientrare in carcere. La caccia ai detenuti si è già estesa a tutta Italia e questa mattina si è tenuto un summit in prefettura per il coordinamento di ricerche. L'evasione è avvenuta attraverso una vasta area agricola e ha concretizzato una fuga per certi versi inspiegabile, soprattutto per Ermelinda che sarebbe uscita dal carcere il prossimo sabato a differenza del compagno che doveva scontare altri tre anni. Gli inquirenti ipotizzano che l'uomo possa aver convinto la donna a scappare con lui. E appena 24 ore dopo il caso dell'evasione dal carcere i carabinieri sono alla ricerca anche di un pesarese evaso ieri sera dagli arresti domiciliari dove era recluso col provvedimento di braccialetto elettronico. Si tratta di un 47enne condannato in seguito a due processi per lesioni, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di tre donne. L'uomo sarebbe riuscito a sbarazzarsi del dispositivo elettronico facendo perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri che hanno già applicato misure di protezione per le tre donne in questione. Anche nella provincia di Pesaro Urbino domani sarà sciopero generale come proclamato a livello nazionale da CGL e UIL, sindacati che scenderanno in piazza a Pesaro e vediamo quali saranno le categorie lavorative coinvolte e i possibili disagi che ci saranno. Anche in provincia di Pesaro Urbino domani, venerdì 17 novembre, sarà sciopero generale in linea a quanto indetto su scala nazionale da CGL e UIL. Anche nella dimensione locale la CISL non parteciperà ad uno sciopero che da ieri è stato ridimensionato da 8 a 4 ore e che dovrebbe avere disagi limitati sui servizi pubblici essenziali nella fascia compresa fra le 9 e le 13 per quel che riguarda trasporti come treni, autobus e taxi. Ad incrociare le braccia potrebbero essere pure gli addetti di ANAS e delle autostrade. Tante le categorie coinvolte ma ancora di difficile decifrazione l'adesione ad uno sciopero che coinvolgerebbe anche gli addetti di Marche Multiservizi, i vigili del fuoco, il comparto della sanità, gli impiegati degli uffici postali, i dipendenti pubblici e i dipendenti scolastici che potrebbero fermarsi per l'intero turno lavorativo. Ad incrociare le braccia in piazza saranno anche i metalmeccanici attesi alle manifestazioni che in provincia si terrà a Pesaro in piazzale Lazzarini a partire dalle 10. Si sciopera contro la manovra di governo penalizzante sul tema pensioni e sulle mancate promesse in tema di stabilizzazione di precari per un'emergenza salariale sempre più acuta sotto l'incudine dell'inflazione. In piazza al fianco di lavoratori e sindacati CGL e Will ci sarà l'intervento di Lucia Grossi, segretaria nazionale della Will Temp. Ed ora cambiamo completamente argomento e ci occupiamo dell'eccezionale scoperta archeologica presentata ieri ad Urbino, quella del ritrovamento di quattro frammenti di una copia manoscritta della Divina Commedia di Dante Alighieri, rinvenuti fra le pergamene pensate dell'archivio di stato di Pesaro Urbino. Amiche e amici di Rossini TV, giornata importante, oseremo quasi definire storica per l'Università degli Studi di Urbino e in particolare per il Dipartimento di Studi Umanistici che ha avuto un'assegnazione importante della quale andremo a scoprire tutti i dettagli e che in questa giornata fa da cornice alla presentazione del ritrovamento di quattro frammenti danteschi. I frammenti in realtà sono quattro e tre sono stati ritrovati da me e dal dottor Domenichini nel fondo notarile di Fossombrone. Un quarto frammento invece è stato trovato dalla professoressa Alessandra Molinari dell'Università di Urbino all'interno della sezione di archivio di stato di Urbino, il fondo della cancelleria ducale. È il testo della Divina Commedia trascritto da un copista di poco successivo all'età di Dante. Non sono autografi di Dante, sono manoscritti di un copista vissuto forse 50 anni dopo Dante che ha trascritto l'opera di Dante. La direttrice dell'archivio di stato ci spiegava che questi frammenti ritrovati non sono autografi e manoscritti di Dante ma di un trascrittore. Esistono in giro per il mondo frammenti che possono essere attribuiti direttamente a Dante? Allora, è probabile che esistano, solo che non li conosciamo. Purtroppo non li conosciamo. La ricerca spasmodica dell'autografo di Dante continua da secoli. La scoperta di frammenti anche oggi, nel corso dei secoli, ci fa capire quanto estesa fosse la tradizione della commedia, la tradizione manoscritta della commedia, quante copie si facessero del testo della commedia e quindi cercare, immaginare di trovare l'autografo di Dante è un po' come cercare l'ago nel paiaio ma questa è un po' anche la scommessa dei filologi danteschi. Uno di questi frammenti era addirittura stato utilizzato come copertina e di conseguenza a rischio di essere completamente trascurato? In realtà tutti e quattro sono stati usati come coperta. Uno è un rinforzo del dorso, gli altri tre sono proprio delle coperte ed è una pratica molto diffusa tra XV e XVI secolo che a noi sembra strana usare il testo dantesco per coprire un volume di un notaio però fa parte della cultura di questi periodi per cui la pergamena non si gettava mai perché è materiale prezioso e molto resistente. Quindi anche quando il codice come valore testuale veniva meno lo si utilizzava dal punto di vista materiale quindi si smembravano purtroppo questi codici e si dava loro una nuova vita, si dava loro un altro uso però se ci pensiamo è grazie a questo secondo uso che questi codici sono arrivati a noi altrimenti non avremo nemmeno questi tre frammenti del codice dantesco. Questi libri di cui abbiamo parlato sono certamente manoscritti che avevano un grande valore dal punto di vista anche strettamente commerciale nel momento in cui sono prodotti quindi intorno alla metà del 300 e anche prima stiamo parlando quindi di due antichi codici della commedia però poi nel corso della loro storia arriva un momento in cui qualcuno li ritiene inutili e quindi si attua un meccanismo di riuso diventano semplicemente degli oggetti che servono ad altro in questo caso a diventare coperte di protocolli di notai nel corso del XVII secolo ma questo non ci deve stupire perché è la considerazione dell'oggetto libro varia nel corso del tempo Non solo il ritrovamento dei frammenti danteschi ma anche un progetto di eccellenza riconosciuto al Dipartimento di Studi Universitari dell'Università di Urbino saranno oggetto di un più ampio speciale televisivo che vi mostreremo lunedì 20 novembre alle ore 21.40 Urbino che si lega invece a Gabice Mare nel prossimo servizio Ieri infatti è stato siglato un protocollo d'intesa per la valorizzazione del territorio fra la Fondazione Visit Gabice e Slow Food Urbino Slow Food Urbino ha accettato con piacere l'invito di Visit Gabice e del Presidente Ceccarelli per sottoscrivere questo importante protocollo d'intesa che andrà a gestire tutte le iniziative in campo dell'agroalimentare grazie alle esperienze e all'efficacia che è al volano che produce Slow Food come associazione e massima espressione nel campo dell'enogastronomia La Fondazione Visit Gabice ha visto in Slow Food Urbino un partner fondamentale per la promozione del nostro territorio noi siamo nati proprio per promuovere la provincia di Pesaro Urbino per promuovere Gabice Mare e tutte le eccellenze che questo territorio è in grado di fornire alla gente che lo viene a visitare Riteniamo che Slow Food Urbino con tutti i prodotti che promuove per il nostro territorio sia un partner fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi A fronte di questa nuova collaborazione abbiamo già pensato ad un primo progetto riguardante i cesti natalizi proporremo a tutti gli associati della nostra fondazione l'acquisto dei cesti natalizi con prodotti selezionati da Slow Food che fanno chiaramente da promotore per la nostra destinazione Un altro accordo di tutt'altro genere è stato siglato oggi al gattile pesarese di Santa Veneranda fra l'assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti e la presidente dell'EMPA Costanza Lucchino Si tratta di una rinforzata collaborazione che permetterà di monitorare le diverse colonie feline presenti a Pesaro salvaguardare gli animali e incentivare attività di formazione rivolte ai volontari Verranno inoltre potenziate le attività di accudimento di mamme e cuccioli le operazioni di trasporto veterinario per le sterilizzazioni e le attività di affido alle famiglie adottanti Per organizzare al meglio queste attività il Comune ha deciso di concedere all'EMPA due locali in corso 11 settembre incomodato gratuito per 5 anni Il 20 novembre ricorre la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia il 25 novembre quella contro la violenza sulle donne due momenti di riflessione che verranno uniti in una settimana di appuntamenti culturali a cura di Biblioteca Oliveriana di Pesaro e Unicef Il 20 novembre ricorre la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne due momenti ravvicinati di tutela dei diritti della persona che vengono salvaguardati attraverso la cultura quella della Biblioteca Oliveriana e di Unicef Pesaro che dal 18 al 25 novembre organizzano una settimana di appuntamenti dedicati all'attenzione sulle due tematiche Anche quest'anno la Biblioteca Oliveriana è lieta di partecipare a questa giornata la giornata internazionale contro la violenza di genere e devo dire che lo facciamo veramente con una grande partecipazione e quest'anno appunto ospitiamo due eventi organizzati da Unicef che quindi oltre a pensare insomma a ricordare una figura importante che è quella di Malala quindi una donna che ha subito violenza e che poi ha insomma innescato un meccanismo anche di tutela e di protezione delle donne ma oltre a questo chiaramente c'è anche un'attenzione particolare ai più piccoli quindi ai minori e quindi comunque alle fasce più deboli e poi ci sarà invece una teatralizzazione una drammatizzazione di una storia pesarese dell'inizio del 1800 e la storia che racconta la morte tragica di Virginia del Mazzo che poi è ricordata anche da Giacomo Leopardi e in questo caso invece è realizzata in collaborazione con il PAC quindi Paola Galassi e con la regia di Giampiero Solari Polvere perché abbiamo lavorato sulla cancellazione di questa storia che è un caso di cronaca nera accaduto nei primi dell'800 a Pesaro questa ragazza insomma morte in circostanze tragiche e un caso che colpì moltissimo all'epoca Giacomo Leopardi che per lei scrisse una canzone allora da questo noi ci siamo ispirate ascoltando molto blues il blues delle donne afroamericane degli anni 20 del 900 e ci siamo ispirate a questa storia abbiamo lavorato sul filo della cancellazione sulla rimozione della storia ed ecco perché l'abbiamo intitolato Memorie come polvere perché la polvere è quella cosa che viene messa sotto il tappeto il 20 saremo a Fano con la città dei bambini e lì ci sarà appunto una bella manifestazione e chiederemo ai bambini dove stanno bene loro dovranno giocare attorno ad una piantina la piantina della loro città e dovranno dirci appunto dove stanno bene poi il 22 ci muoviamo andiamo a Borgo Santa Maria alla biblioteca Rodari e lì altro momento diciamo creativo per i bambini ci sarà uno spazio dato alla lettura e uno spazio proprio per il laboratorio il titolo dell'appuntamento è combattere i giganti e il tutto rientra nel grande tema della pace libera a tutti quindi il 25 avremo un altro appuntamento sempre a Pesaro e proprio nella nostra sede Unicef ci sarà anche qui un momento di lettura lettura espressiva il laboratorio per bambini fino agli 11 anni circa e lavoreremo attorno al tema dei diritti i diritti dei bambini quello che dobbiamo assicurare ai minorenni come ogni weekend da un mese a questa parte anche in provincia di Pesaro e Urbino si moltiplicano le manifestazioni che invocano un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese altra manifestazione si terrà sabato 18 novembre alle ore 17 ad organizzarla la rete per la Palestina Pesaro che convoca la cittadinanza a scendere in piazza per chiedere l'immediato stop alla strage di civili nella striscia di Gaza compie un anno l'osservatorio della povertà di Pesaro sabato 18 novembre dalle 10 all'auditorio di Palazzo Montani Antaldi verranno presentati i risultati del primo anno di lavoro e le prospettive per il secondo l'osservatorio è coordinato da Ambito Sociale 1 Università di Urbino e Caritas Diocesana di Pesaro ed è nato per indagare cause e contesti delle emergenze sociali nel nostro territorio e applicarne misure di contrasto a Villa Caprile da domani al 19 novembre ci saranno tre giorni interamente dedicati al libro e al mondo dell'editoria si intitola Lo scrittore, il libro, il lettore la prima edizione di un festival letterario promosso da Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Feder Intermedia il festival vedrà la partecipazione di 12 casi editrici e oltre 100 scrittori da ogni parte d'Italia per un programma che prevede una trentina di presentazione di libri ad aprire il festival domani alle 16 sarà la presentazione del libro che racconta la nascita del Fantasarremo ovvero un team, 5 artisti e una nonna alla presenza dell'autrice Marina Mannucci sabato 18 novembre alle 17.30 al centro Arti Visive Pescheria a presentare il suo libro sarà invece il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Pane e politica è il titolo che racconta il viaggio di Ricci nella provincia italiana durante una serie di cene a casa delle famiglie con le quali ha intavolato ragionamenti sul futuro della sinistra al fianco di Ricci saranno presenti sabato il giornalista Andrea Vianello e la senatrice Ilaria Cucchi a moderare l'incontro il vice direttore del resto del Carlino Valerio Baroncini ed ora continuiamo ad andare alla scoperta dei tanti appuntamenti sul territorio in vista delle ormai imminenti festività natalizie oggi parliamo del mercatino di Natale di Serra Ungarina che è giunto alla sua nona edizione ci saranno tante iniziative tante attrattività per far sì che questo borgo venga di nuovo animato dalla presenza di tante persone così come è successo nelle ultime edizioni avremo tre giornate sul territorio con questi mercatini natali che daranno la possibilità a tutti di poter usufruire di quelli che sono gli stand presenti sul territorio c'è della enogastronomia e avremo la possibilità di gustare un borgo un meraviglioso borgo il borgo di Serra Ungarina da tutti i punti di vista con gli abbellimenti e gli addobbi che hanno realizzato l'associazione una novità di quest'anno sarà un set fotografico di Babbo Natale a cura di una fotografa professionista dove i bambini potranno creare i loro lavoretti e giocare insieme nel frattempo regalarsi un ricordo per questo Natale all'interno del mercatino ci saranno numerosi spettacoli fissi come ad esempio il teatro di Burattini le sculture di ghiaccio a cura del maestro Francesco Falascuni e numerosi intrattenimenti itineranti come ad esempio gli zampognari del Monte Filtro il 3 dicembre domenica 3 dicembre da non perdersi è un concerto di una band di ragazzine dagli 11 ai 16 anni diretta dal maestro dal maestro Gabriele Manocchi e inoltre sarà riconformata anche quest'anno una via dedicata alle scuole in cui i bambini delle scuole di Coglialmetauro potranno dobbare degli alberi a loro dedicati abbiamo organizzato tre raduni e questi raduni toccheranno i nostri burghi il 26 novembre ci sarà il Giro Stracco in collaborazione con i Mugli Stracchi e la Proloco di Saltara il 3 dicembre ci sarà Babbo Natale in macchina sportiva in collaborazione con Motori con Gusto il Comune di Terraroveresche e l'Akli di Montebello l'8 dicembre ci sarà Babbo Natale in Fiat 500 in collaborazione con Fiat 500 Club Italia Pesaro Urbino e la Proloco di Montemaggiore Concludiamo il nostro telegiornale con le notizie di sport la nazionale di basket è pronta a tornare a Pesaro l'Italia di Pozzecco affronterà infatti la Turchia alla Vitre Friguarena il 22 febbraio 2024 in occasione della prima gara di qualificazione agli europei di basket 2025 Italia che torna dunque sul parquet pesarese dopo il sold out di un anno fa per Italia Spagna di qualificazione ai mondiali dal basket al calcio a 5 vi ricordiamo che è già vigilia di campionato per l'Ital Service Pesaro che dopo la bella vittoria di Ciampino torna domani alle 20.30 al Palamega Box di Campanara per affrontare la neopromossa Sala Consilina attualmente settima due punti avanti ai pesaresi e continuiamo a parlare di sport su Rossini TV perché questa sera alle 21.20 non potete perdervi la nuova puntata di Insieme a Canestro questa sera ci sarà con noi Leonardo Totè il pivot della Carpegna Prosciutto Basket e Alfredo Carboni che è stato ex giocatore della WL saremo in diretta ve lo ricordo sul canale 80 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook potete commentare al numero di Whatsapp che vedete in sovrimpressione oppure nella diretta commentate perché potrete vincere i biglietti per le prossime partite e poi domani vi aspettiamo nella nostra rassegna stampa tutte le notizie del territorio fresche di giornata le 7.20 in diretta come sempre sul canale 80 e sulla pagina Facebook grazie allora per essere stati con noi anche questa sera vi ricordiamo anche il nostro numero per le segnalazioni mi raccomando utilizzatelo attraverso la messaggistica di Whatsapp il numero che vedete in sovrimpressione un numero molto utile per restare in contatto con noi e denunciare le cose che non vanno sul vostro territorio buona serata grazie a tutti